Luigi Notonus, classe 1957, ingegnere e dirigente della provincia, è il nuovo referente bellunese di Europa Verde, soggetto politico già presente alle europee dell'anno scorso. Un progetto politico aperto che si chiuderà entro la fine di quest'anno con un congresso straordinario dove si auspica, convergeranno oltre che la Federazione dei Verdi anche altri gruppi, movimenti politici o singole persone. Ci stiamo preparando adesso su questi temi, sui temi ambientali, per le prossime elezioni regionali. Parteciperemo senz'altro in tutte le province con nostre liste e stiamo valutando di far parte di coalizioni con altri partiti di centro-sinistra. Per quanto ci riguarda, come Europa Verde, noi vogliamo puntare in linea generale a uno sviluppo sostenibile che accompagni la preparazione alle Olimpiadi del 2026. Dei temi ambientali, negli ultimi mesi si è parlato molto anche in relazione ai vincoli ministeriali in Comerico. Su questi temi noi riteniamo che si sia aperto un dibattito giusto, però riteniamo anche che bisogna guardare agli aspetti positivi dei vincoli. Partire da Dolomiti Unesco, Parco Nazionale delle Dolomiti Belunesi, Parco Regionale delle Dolomiti Tampezzo, lo stesso vincolo paesaggistico su Feltre, sono vincoli che hanno portato anche delle opportunità e anche uno sviluppo turistico e quindi bisogna vedere i vincoli anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda il Comerico riteniamo che con le discussioni in atto si arriverà a una soluzione condivisa, noi lo speriamo.